Niente udienze, niente causa nei processi. Si sono astenuti dal lavoro per un giorno per scongiurare la paralisi perpetua del Tribunale di Vasto, già condannato con data certa al 2021, ma che, se la carenza di personale amministrativo non verrà risolta al più presto, rischia di soccombere ben prima di quella data. Lo sciopero di oggi era indetto dall'Ordine degli Avvocati. Parla il Presidente Vittorio Melone. Speravamo che in questa giornata si riuscisse a far incontrare la politica di questo territorio che si riferisce poi alle forze di governo e i magistrati e gli avvocati che da tempo rappresentano il problema della carenza di questo Tribunale in termini di personale amministrativo, purtroppo condizionato dalla legge che, avendo disposto la chiusura, condiziona, appunto, come dicevo, anche il turnover dei dipendenti amministrativi presso questo Tribunale. Abbiamo portato all'opinione pubblica la notizia che il sottosegretario Morrone intende al più presto incontrare il Presidente Marsilio per aprire un tavolo sull'Abruzzo, sui quattro tribunali abruzzesi, partendo da quello di Vasto, perché ha questa drammatica situazione. Quindi ritengo sia stata una felice mattinata per l'Avvocatura, per la Magistratura e per questo territorio. Procuratore Capo Giampiero Di Florio, presente anche in questa Assemblea per ancora di più supportare e dare un segno importante a questa istituzione? È presenza necessaria in totale adesione al deliberato del Consiglio dell'Ordine perché era necessario far sentire la nostra voce. D'altra parte, siamo qui, lavoriamo con delle scoperture di organico superiore al 40% e lei comprende bene come sia difficile dare risposte in termini di efficienza e di efficacia all'azione penale, se non abbiamo il personale su cui poter contare per smaltire il nostro lavoro. Presidente del Tribunale, Gian Giacomo, chiedo, come si lavora in questo modo? Si lavora male, si lavora in certi settori con dei rallentamenti che sono anche proprio dei veri e propri blocchi di certi settori di attività, che si bloccano per certi periodi e poi si cerca di mettere da altri settori per riattivarli, perché chiaramente questa è un'attività che per quanto ci sono delle priorità, ma anche quelle che non sono prioritarie, devono essere effettuate a un certo punto. Per cui è una gestione organizzativa particolarmente difficile e complessa. Anche noi siamo a una scopertura attuale del 40%, nel corso dell'anno con altri pensionamenti arriverò al 45%. Una situazione difficile per far capire ai cittadini è un po' come se in un ospedale ci fossero i medici e mancasse il personale infermieristico.